Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, alla microfono, Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ieri ha approvato all'unanimità, tra gli applausi dei comitati No Ombrina Mare presenti, l'istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi. L'area protetta sorgerà in provincia di Chieti, tra il confine nord del comune di San Vito Chietino e quello sud del comune di Rocca San Giovanni. Si estende per sei miglia marine nel tratto di mare prospicente i due centri del litorale frentano. E il comitato No Ombrina esprime soddisfazione per l'approvazione della legge che istituisce il Parco Marino Regionale Abruzzese, denominato Trabocchi del Chietino e Costa Frentana. Il voto del Consiglio regionale all'unanimità è avvenuto alla presenza, come si diceva, di alcune decine di attivisti del coordinamento. Non appena pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo scatteranno le norme di salvaguardia transitorie che prevedono, tra l'altro, il divieto di modificare fondali ed elementi naturali all'interno del Parco. E ieri la Giunta regionale ha approvato i progetti cui destinare finanziamenti per 69 milioni di euro per completare il sistema idrico integrato. Si prevede il potenziamento dell'acquedotto del Ruzzo, la realizzazione dell'impianto di depurazione per alcuni comuni dell'Aquilano e gli interventi minori di adeguamento ed ottimizzazione delle reti idriche e fognarie. Favorire l'integrazione tra bambini di scuole e paesi diversi attraverso il gioco del rugby è stata la motivazione con cui il CONI, cioè il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Ministero delle Politiche e Sociali hanno premiato la Gran Sasso Rugby nell'ambito dell'evento Sport e Integrazione La Vittoria Più Bella. L'iniziativa della squadra, alla quale hanno partecipato 200 bambini provenienti dai comuni del Cratero Aquilano, vale a dire quelli più colpiti dal terremoto del 2009, è rientrata tra i cinque migliori progetti presentati dalle società sportive a livello nazionale. Il Presidente della Regione Abruzzo, D'Alfonso, ha convocato una seduta straordinaria della Giunta regionale per oggi ad Avezzano. All'ordine del giorno dei lavori, la discussione sul progetto Marsica per il rilancio dello sviluppo economico, del comprensorio e per la sua competitività territoriale. Ci saranno, oltre a tutti i componenti d'esecutivo, il Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio e i sindaci dei comuni marsicani. La seduta si terrà a Palazzo Torlonia alle 10.30. Si è svolta ieri nella sala consigliare del Comune di Pescara la giornata di formazione per gli enti locali a cura di Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, IFEL, Fondazione Anci per la Formazione e ARDEL, Sezione Italia Centrale, per rispondere all'esigenza dei comuni di accrescere le competenze in materia di lotta all'evasione fiscale. Tre i punti cardine trattati, il ruolo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto all'evasione fiscale e l'evoluzione della normativa in materia, la collaborazione tra le istituzioni nelle attività, il maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'evasione e la condivisione delle migliori pratiche. A quattro anni dall'ultimo bando abbiamo emanato il nuovo avviso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ad oggi il nostro comune sta attingendo alla graduatoria pubblicata sul sito della regione nel 2013, frutto del bando del 2011. Ora è possibile presentare una nuova domanda? Lo dice Ottavio De Martinis, assessore alle politiche per la casa del comune di Montesilvano, che annuncia la pubblicazione del bando per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale popolare. L'avviso è aperto fino all'11 gennaio per i residenti in Italia e fino all'11 marzo per i lavoratori emigrati in area europea, ma anche fino al 10 aprile per quelli che risiedono in altri paesi al di fuori dell'Europa. Letteratura, libri, musica, teatro, giornalismo, reading, poesia, fumetto. Fino all'8 novembre, il tredicesimo festival delle letterature dell'Adriatico a Pescara, con 150 appuntamenti. In quattro giorni tre incontri promossi dai partner dell'iniziativa sui cambiamenti che il digitale sta portando nella musica, nella cultura e nell'informazione tra gli ospiti Walter Veltroni, Marco Missiroli, Camilla Rasnovic e Saturnino, Pietro, Paola Mastrocola, Giuseppe La Terza e Sandra Petrignani. Si terrà domenica il primo incontro del corso di formazione 2015-2016 per animatori dei 16 anni in su degli oratori organizzato dall'ufficio di pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Aspetti organizzativi e progettuali dell'oratorio saranno il tema al centro dell'incontro in programma presso la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria dalle 15 alle 19 in Viale Vespucci a Pescara appunto domenica. Oggi è venerdì 6 novembre e la Chiesa celebra la memoria di San Felice Martire. Nella diocesi di Terra Moatri si celebra la commemorazione dei vescovi, presbiteri e diaconi che hanno esercitato il ministero in diocesi. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano il nome di Felice, buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Nino di Francesco e buon compleanno a Don Bruno Valente. E con questo siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso al mattino, coperto nel pomeriggio e sereno in serata con temperature da 14 a 17 gradi e 20 deboli. Nelle zone interne, cielo sereno al mattino, nuvoloso nel pomeriggio e coperto in serata con temperature da 14 a 16 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.